come non funziona? come non funziona? non si dà ai rompiti non c'è che ti devi fare un botto sei in loro ma se non fai nulla scusa è facile guardami non è una foto è un filmato vedete i cosi sai stai un truciolo hai un truciolo? tu la guarda stai un truciolo guarda fai troleare il tuo papà papà dai hai di truciolo da tavolo papà vengiamo in setola se no si alza polvere e tu riri ma io mi non ho più non sono più abituato con i figlioli ti ha insegnato male papà io te lo dico a me tempi queste cose non si insegnavano no va ciccio guarda che storia è quello con la modifica altra fermo e se no che le forbici no le forbici no guarda ascoltami mi faccio la mano bello stavola di mattina di naso ecco vieni ma vai c'è da fare il video ora stai fredd ti volevo ammazzare ti volevo ammazzare ma no tu sei serio che sei serio una mattinità nonno ai ai guarda veramente tu sei un caterfiller madonna guarda tu ti serve di fare un bel filmato così questo non è un filmato non è una fotografia non è una fotografia è un filmato quindi devi muovere devi dire qualcosa non devi non devi stare lonti con un baccalate eh vuole lui baccalate ehm vai sorti di che io sono da lonti io c'ho io senti tra te la patera nick qui non c'è mezzo di fare un cazzo nulla ciao ahhh ahhh ti vedi che sti violini dici ho da fare di tutti la staffa mettiti a sedere no lascia fermi mettiti a te non sedere e sta a sentire che c'è il video 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 se te tu fossi un bambino a garbo tu m'ascorteresti chiedere io ma te è forti da non so nooo sta fermo ti vuoi tagliare un po' si e pensai che prima nei lavoratori li pigliano così non vedo niente pigliano così ti cominciavano a far spazzare e pulire gli facevano una fatiga a loro e basta però non era una cattiva idea perchè io cominciai a spazzare nooo dammi il violino no no guardami cominci a votare qui il violoncello forza come? ahahahah qua qui il violoncello lì cominciai a lo seghi e lo porti questo? certo questo non è un violoncello questo è un violoncello mi senti? cos'è se hai votato un violoncello? va cominci a segare e dove è lo dico? fatti dalla sgorpi e la tua qua e dove è lo dico? e dove è lo dico? e dove è lo dico? con lo sfruttamento e dove è lo dico? mamma dove è la fega? dove è la fega? volevi vedere come funziona questo? si io voglio fegare vieni si guarda come le gazzito madre dove funzionare? chi è cascato? non mettici le mani non metti le mani mi fai fare un violoncello? no questo è troppo pericoloso questo è troppo pericoloso questo è troppo pericoloso io lo faccio grazie ora le ho di taglio guarda lo faccio qui e ci incollo questa qui qui ma dove hai fatto lo dico? non le ho fatto io ah io lo taglio no adesso non lo taglio perché se gli erano ci sono molte cose perché un po' di soldi e che voglio lo taglio? no no non lo tagliare sta fermo non me lo sciupare perché è quello di Gesù lo sai che vuol dire quello di Gesù? vabbè lo sciupare lo sciupare e dopo il momento c'hai a parlare ah non le accendi proprio? ancora no non le ha fatto io due e una papà voglio tagliare papà papà ti sto riponendo un video vero? dopo fai su youtube eh non le ha fatto io apprendista in erba papà facciamo il ventilatore dalle crisi che il bambino servito mi tendo l'olio ecco mi vanno a raperne gli occhi ti vanno a raperne gli occhi non tirarmi la sabbia negli occhi vedi 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 si dice nulla e come vuoi? mi ha mandato dei pazzi che vuoi dire? mi ha mandato dei pazzi no papà oh oh